Musica Siamo orgogliosi di aprire oggi questo salone che espone più di 120 espositori molto rinnovato rispetto agli altri anni ci teniamo anche a far sapere che stiamo sostenendo quest'anno due associazioni per fare anche noi un po' di beneficenza quindi sono Ant e Ail e quindi una parte del ricavato del biglietto sarà poi devoluto appunto a queste due associazioni Musica 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 Il padiglione è stato allestito nell'arco di un anno c'è un lavoro di un anno dietro e siamo come dicevo orgogliosi e soprattutto perché come detto ieri in conferenza stampa non è un momento facile per le attività imprenditoriali per il design, per l'arredamento però se le c'è arredo insomma è arrivata alla 24esima edizione evidentemente vuol dire che il marchio funziona e ne siamo veramente felici Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.